Una delle cartoline forse più belle della Garfagnana, il magnifico gruppo delle apuane con il mestoso pisanino che fa da sfondo al paese di Nicciano. Siamo nel comune di Piazza Al Serchio, poco più in alto Cortia, dove sabato scorso è stato inaugurato e rivalorizzato un antico percorso che nel passato era molto frequentato anche da pellegrini che volevano raggiungere il volto santo a Lucca. Lo scultore locale Luca Malatesta ha pensato di posizionare delle opere d'arte da lui realizzate lungo la strada che collega Cortia a Capoli e che prende il nome di Via dei Piastroni. Questa idea è partita che praticamente percorrendo gli antichi sentieri che avevano fatto i nostri vecchi, queste immagini che loro ci tenevano tanto anche per un simbolo di cristianità, ho voluto ricreare da dei pezzi di una frana tutte queste opere che spero che in futuro portino alla riscoperta di questa antichi sentieri. Tante persone hanno partecipato alla prima passeggiata lungo la Via dei Piastroni, tra questi il sindaco Carrari che ha inaugurato il percorso e il suo vice Cardosi. Tra i presenti anche alcuni artisti che hanno voluto aderire alla bella iniziativa voluta e realizzata dagli abitanti del luogo. Su internet hanno trovato che questa strada praticamente faceva parte delle strade che andavano al volto santo. L'idea del comitato locale è quella di valorizzare ma soprattutto salvaguardare la storia e l'identità di questi luoghi che hanno rappresentato tanto per chi vive in questo spicchio di alta Garfagnana ma non solo. Ricordo bene queste strade mulattiere dove le persone portavano su le damiciane di vino sui muli, il grano e poi sono quelle strade in cui si facevano anche le rogazioni e un tempo c'era poi la Franciscina, la strada che portava ai santuari e sono ricordi che sono del passato ma per noi che abbiamo una certa età fanno sempre la loro importanza.